1, è un saltello, poi un'altra volta, 1, 2, 1, 2, tranquilli, a sto punto è più difficile perché se batte il piede due volte e se batte le mani, 2, te sposti del lato e giri, lo fai pure qua, 1, 2, sposti del lato e giri e lo facciamo per due volte, perfetto va bene non è, ok? Pronti, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, per 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 24, 17, 19, 20, 21, 21, 23, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.